Buonasera, benvenuti anche a questo appuntamento con il cubismo, quindi siamo di nuovo all'interno delle avanguardie storiche inizi novecento. Affronteremo il percorso del cubismo attraverso soprattutto le due maggiori personalità che sono quella di Picasso e di Braque, però facciamo un breve scursus anche per inquadrare un po' il movimento. Avete già affrontato qualcosa di queste avanguardie, quindi sappiamo che nel novecento non c'è solo il cubismo, ci sono i fove e l'espressionismo tedesco che iniziano nel 1905, poi abbiamo il cubismo nel 1907, il futurismo nel 1909, l'astrattismo intorno al 10-11 e poi via via gli altri movimenti che sono più a ridosso della prima guerra mondiale o poco dopo, quindi il dadaismo, la metafisica e il surrealismo. Quindi siamo ancora all'inizio del novecento con il nostro cubismo. Il cubismo non è un movimento unitario, ha delle fasi a seconda dello stile che viene adottato dagli artisti. Oltre a Picasso e Braque, l'altro nome importante è quello di Juan Gris, che è un altro spagnolo come Picasso, mentre Georges Braque è francese. Cosa hanno in comune tutti e tre? La scelta di non rappresentare la realtà così com'è, ma di reinterpretarla, in particolare in modo scomponendola, utilizzando le figure geometriche, i solidi fondamentali e utilizzando quindi linee e piani che si compenetrano tra loro. Il cubismo quindi ha la prima fase, che è cosiddetta del cubismo formativo, dal 1907 al 1909. Un esempio è nell'opera di Braque che vedete sotto, vi adotto delle stack, dove compaiono, poi lo analizzeremo, alcuni degli elementi fondamentali di questa fase cubista. Il secondo momento è quello invece del cubismo analitico, che è anche la fase più feconda, possiamo dire, dal 1909 al 12. Ecco abbiamo Picasso con il ritratto di Ambroise Vollard e per ultimo il cubismo sintetico, quindi dopo l'analisi, la sintesi, dal 12 al 14, ma se vogliamo anche dal 12 e oltre, perché vedremo che mentre finisce il suo dalizio Braque Picasso, intorno all'inizio della prima guerra mondiale, non finirà Picasso di utilizzare il cubismo nella sua arte, prendendone alcuni aspetti. Quindi un esempio dell'opera di Juan Gris. Adesso andiamo però ad analizzare fase per fase. Innanzitutto però vediamo come il nome cubismo, anche come era stato per gli impressionisti, non è scelto dagli stessi interpreti, dagli stessi autori, ma deriva da una frase in certo modo denigratoria dello stesso Matisse, che era all'interno della commissione del Salon d'Autom e che di fronte a un'opera di Braque, che era stata presentata al Salon, definì quest'opera come cubista, come fatta di cubi. Fu poi il critico d'arte Louis Vossel a riprendere questo termine, sempre in senso spregiativo, definendo la pittura come pittura di cubi. In effetti all'interno del cubismo analitico, del cubismo anche formativo e poi del cubismo sintetico, analitico, sono evidenti queste forme geometriche. In particolare in questo cubismo iniziale predominano dei grossi volumi squadrati, che sono quelli dei parallelepipedi, dei cubi. In case alle stack di Braque, quindi, tutto l'ambiente cittadino visto un po' dall'alto è presentato attraverso dei grossi solidi geometrici, incastrati tra loro, che danno quindi l'impressione di compenetrarsi in qualche modo. Sono visti da varie angolazioni, da vari punti di vista. Tutto subisce questa deformazione geometrica, l'ambiente umano e l'ambiente naturale. Il cubismo formativo, abbiamo detto che quindi nasce dal sodalizio di Picasso e Braque, il punto di riferimento però è l'opera di un artista che abbiamo già analizzato, che è Cézanne, che era arrivato a scomporre la realtà attraverso le forme geometriche. Lo avevamo visto, questa progressione, anche nella più volte rappresentata montagna di Saint-Victoire, dove la scomposizione attraverso il colore e attraverso la forma, l'uso di alcune forme essenziali, caratterizzava il cambiamento di questa montagna, diciamo così. Ma l'altro punto di riferimento per l'arte cubista è la scultura africana e in questo periodo, siamo all'inizio del Novecento, è l'epoca delle grandi colonizzazioni europee in Africa ed è anche l'epoca in cui i musei etnografici vengono fondati o si riempiono di opere provenienti dalle varie colonie. In particolare a Parigi abbiamo il Museo del Trocaderò, che ospita appunto le collezioni etnografiche e quindi offre facile materiale di studio agli stessi artisti che vogliono vedere queste opere. Cosa diceva Cézanne a proposito della sua opera? Il suo intento era quello di trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono e questa frase, questa definizione viene proprio applicata alla lettera da Picasso e Braque. Riprendiamo quindi il nostro percorso, cubismo formativo ha alcuni caratteri essenziali, oltre a geometrizzare le forme rendendole molto semplici, lei rappresenta gli oggetti reali da più punti di vista, contemporaneamente. I soggetti principali sono nature morte, paesaggi e quadri di figura, quindi ritratti. In generale possiamo dire che sono i generi artistici tipici a cui siamo abituati a pensare, quindi diciamo così è esclusa tutta la tradizione mitologica, il quadro storico e quant'altro che apparteneva alla tradizione ottocentesca. Un po' diciamo anche sono gli stessi soggetti di Cézanne, che ha rappresentato molti paesaggi e molte nature morte, molto adatte al suo stile, alla sua innovazione e poi anche qualche ritratto. In questo periodo del cubismo formativo vengono utilizzati i colori caldi, soprattutto colori bruni, brunastri, ocre, tanto che danno al dipinto l'impressione di essere quasi monocromatico. Per quanto riguarda poi, vi dicevo, gli oggetti naturali, anche questi subiscono una modificazione in senso cubista e vengono geometrizzati, magari riferendosi a figure solide come i cilindri più che i cubi. E poi in generale nel cubismo ci sono visioni simultanee da più punti di vista di uno stesso oggetto, dall'alto, di fronte, di profilo, per quanto riguarda la persona per esempio, varie angolazioni e quindi questo ci dà un po' l'impressione anche di simultaneamente poterci muovere e osservare questa immagine da tante angolazioni diverse. È quasi come se noi potessimo muoverci nello spazio e nel tempo, in un certo senso, perché la vediamo contemporaneamente da più punti di vista. Il cubismo formativo è l'opera che abbiamo visto prima di Braque, quindi il viadotto delle stack, siamo in 1908. In questo caso il soggetto è molto simile, vediamo alcuni soldi geometrici come la piramide per esempio, oltre ai cubi, oltre ai parallelepipedi e ci sono nette contrapposizioni, non solo di zone in luce e in ombra, possiamo vedere per esempio il viadotto, la parte sottostante negli intradossi, è marrone scuro, poi c'è un ocra chiaro nella parte in luce, è lo stesso di così per i tetti, per le facciate delle case, ma è anche una contrapposizione, colori caldi e colori freddi, centro e bordi. In questo caso gli alberi sono resi con rapidissime pennellate e non sono analizzati nel dettaglio. La linea di contorno è molto evidente, siamo ben lontani per esempio dall'impressionismo, è tutto un altro trattamento del dato naturale che viene fatto. Il cubismo analitico invece fa un passo diverso, è anche un po' la fase più creativa del cubismo stesso e il soggetto viene scomposto in tantissime piccole parti, sempre guardandolo da più punti di vista, assemblandoli poi in qualche modo assieme, quindi questi spazi, questi punti di vista si compenetrano gli uni negli altri. Questo ci rende più difficile riuscire a comprendere il soggetto, riuscire a comprendere cosa sta sulla tela. In questo esempio, per esempio di Picasso, nel ritratto di Ambroise Vollard, ci sono degli oggetti nello spazio, attorno al volto, solo se facciamo un po' di attenzione riusciamo a coglierli. Per esempio c'è una bottiglia, c'è un giornale qui davanti che sembra però penetrare un po' nel corpo del personaggio ritratto, qua c'è uno sfondo, forse una finestra, c'è un ambiente tridimensionale, però spazio, spazio ambiente diciamo, e figura subiscono lo stesso trattamento, tutto viene parcellizzato alla stessa maniera e poi anche ogni piano viene fatto scivolare l'uno nell'altro. Quindi una volta scomposto lo spazio viene ricomposto, riassemblato, ma in modi complessi, attraverso tante linee. Questo è molto tipico, veramente tipico del cubismo analitico, la presenza di tante linee che danno un po' la struttura al dipinto e allo stesso tempo lo scompongono. Quindi persino lo spazio, il vuoto, in un certo modo, diventa geometrico, diventa un solido geometrico. Ultima fase è quella del cubismo sintetico, vedete qua, 1912-21, prima avevo scritto 12-14, perché appunto nel 14 circa finisce il suo dalizio con Brac a causa della guerra e quindi ognuno poi segue la propria strada, però in realtà Picasso continua ad usare questo cubismo in altri momenti, quindi è una fase anche che perdura oltre il suo dalizio dei due artisti. E non solo poi Brac, non solo Picasso, ma anche Brac continueranno per conto loro le proprie strade, Juan Gris continuerà ad usare il cubismo. Il cubismo sintetico fa quindi un'operazione di sintesi, dopo l'analisi, le forme diventano più semplici, sempre geometriche, molto spesso ricondotte a figure geometriche piane, piuttosto che solidi. La profondità spaziale è assente, più che essere scomposta o quasi del tutto assente. Entra una nuova tecnica che è quella del collage, in particolare il collage polimaterico, cioè l'utilizzazione di altri elementi oltre alla carta e alla tela, che provengono per esempio dall'industria, come telecerate, carta da parati e quant'altro. Assemblate sulla tela, ma poi modificate attraverso interventi pittorici. Quindi andiamo a vedere per esempio quest'opera, in questo caso Juan Gris, dove i contorni degli oggetti sono nettamente percepibili, ma sono anche oggetti visti contemporaneamente a più direzioni. Quindi i bicchieri sono visti dall'alto, la bottiglia è vista dall'alto, ma c'è un'altra bottiglia vista leggermente di lato, un altro bicchiere che si immerge quasi nel violino, che è rappresentato attraverso i suoi contorni. C'è un giornale, questa è una caratteristica del cubismo da qui in avanti in questi tipi di lavori, l'introduzione delle scritte oppure degli articoli di giornale e pezzettini di giornale veri. E poi vediamo il tavolo che è ribaltato verso di noi, come faceva lo stesso Cezanne, in modo che possiamo vedere tutto quello che si sta sul suo piano. E quindi questo era un po', diciamo, l'iscursus. Adesso andiamo a vedere alcune opere significative di questo periodo e partiamo proprio da quella che ha dato la nascita al cubismo, che è Le demoiselles d'Avignon di Picasso. Picasso aveva realizzato quest'opera ispirandosi a Cezanne, ma utilizzando tutt'altro stile, cioè non era ancora cubista. La sua opera però era già di per sé, diciamo, innovativa perché si contrapponeva all'idea della bellezza classica, quella rinascimentale, la bellezza ideale, diciamo così. E invece compie una nuova ricerca in tutt'altra direzione. A partire dal cubismo, piano piano, vari movimenti artistici delle vanguardie, cercheranno anche di allontanarsi da una rappresentazione mimetica della realtà, da una rappresentazione naturalistica, per avvicinarsi sempre di più a una totale astrazione in qualche modo, cioè come se dalla realtà si volesse semplicemente prescindere. Quindi il dipinto, già in questo caso con Picasso, non è più un'imitazione reale, del dato reale e basta. Che cosa succede poi? Picasso si ispira quindi di Cezanne e geometrizza le forme, ma è, e lo vediamo già nelle figure centrali, sono geometrizzate. Però c'è ancora l'elemento naturale. È nelle figure laterali di destra che compie il passaggio ulteriore, dove ci sono degli elementi maggiormente spigolosi e lì c'è stato l'intervento dell'arte africana, della visione delle maschere africane. Perché quindi non sono solo deformate, ma sono veramente, hanno i tratti caratteristici di queste maschere, come esempio in analisi prominenti, gli occhi bucati, perché è una maschera, quindi c'è lo spazio vuoto, la bocca anche scultorea. Per quanto riguarda alcuni elementi della pittura che rimandano a Cezanne, abbiamo per esempio una natura morta che viene un po' squadernata verso di noi, ribaltata verso l'osservatore e anche scomposta secondo le forme geometriche, quindi sfere, coni e altro. Viene ribaltata in avanti dunque. Appunto anche Picasso subisce la fascinazione della scultura africana, delle maschere, quindi ecco l'esempio che avevamo visto prima, dove questi volti hanno anche magari dei fronti prominenti, gli occhi sottili e i tratti spigolosi in generale. Quindi Picasso ha applicato questi caratteri a questi volti femminili. Notiamo proprio la discrepanza nelle varie parti del dipinto. E Picasso non ha geometrizzato tutto, non ha tutto trasformato secondo questi ideali cubisti, ha lasciato in luce la sua ricerca. Ok, questo ne abbiamo detto. Già qui volumi e figure, spazio e figure si compenetrano gli uni negli altri. E la composizione diventa complessa, ma rispetto al cubismo analitico distinguiamo comunque tutte le varie parti. Distinguiamo dei tendaggi, per esempio, distinguiamo dei drappi di stoffa addosso alle ragazze, il tavolino con la natura morta. La composizione è comunque studiata attentamente. C'è un asset centrale che passa attraverso la figura della donna con le braccia alzate al centro, che passa attraverso il tavolino della natura morta e quindi divide il quadro in due parti non simmetriche, ma corrispondenti, due figure da un lato e due dall'altra. È caratterizzato anche da un insieme di linee, vediamo per esempio in questo caso, di linee che convergono verso l'asse centrale e sono caratterizzate, le possiamo individuare, dalle posizioni delle braccia, della figura centrale, dalla gamba, dalla figura laterale e dalle stesse linee del tavolo. Quindi, certo, c'è una scomposizione cubista, non naturalistica, ci sono tutti questi interventi, ma Picasso studia attentamente la propria opera, la realizzazione. Per quanto riguarda poi il cubismo analitico, abbiamo un'opera di Braque, siamo comunque nel 1910 e vediamo come la forma è molto più difficile da distinguere. Il titolo è Violino e Brocca, dove sono il violino e dove sono la Brocca, dobbiamo cercarli, non è immediata la loro individuazione. Però il soggetto non scompare, riusciamo a trovarlo. Quindi abbiamo su di un alato, possiamo dire così, un po' decentrata, un po' sul fondo la Brocca, in primo piano il violino, scomposto da più punti di vista. Nel cubismo analitico è un po' come se ci trovassimo di fronte a dei soggetti che vengono deformati da uno specchio rotto, oppure da un vetro smerigliato, che crea una parcellizzazione dell'immagine. È in effetti il momento in cui la ricerca cubista si fa veramente molto innovativa, perché si stacca dalla rappresentazione fedele della realtà. Del resto, Picasso sapeva bene, alla rappresentazione fedele della realtà ci pensa la fotografia. L'artista non ha più bisogno di essere un fedele imitatore di quello che vede. Quindi caratteristica tipica del cubismo in generale è la raffigurazione degli oggetti da diversi punti di vista. Il fatto che poi questa scomposizione sia molto analitica caratterizza questa fase. Queste viste vengono sovrapposte sulla tela per creare una nuova visione. Noi abbiamo per esempio un disegno dove si vede il violino visto da vari lati, di fronte e di profilo, diciamo così, e sulla tela viene riproposto in tutte le sue varie angolazioni. Quindi la parte con le chiavi è quasi di profilo, poi abbiamo delle parti dove si vedono le corde frontalmente, delle altre in cui notiamo i fianchi o la parte inferiore addirittura del violino e via dicendo. Quindi è in qualche modo come se le immagini che il nostro occhio può vedere di un oggetto si sovrapponessero nella nostra retina e poi l'artista cercasse di recuperarle, di rappresentarle tutte insieme sulla tela. Noi riusciamo ancora quindi a percepire le immagini, ma l'immagine non corrisponde perfettamente a quella reale, è scomposta ed è formata e come abbiamo detto prima qui si usano, come anche nell'incubismo formativo, toni monocromatici. Quindi è tutto giocato un po' sui toni grigio-azzurri oppure ocra, proprio perché non si vuole riprodurre il mondo così com'è, in modo fedele. L'immagine quindi che ne risulta è comunque molto complessa, dove lo spazio è difficilmente distinguibile, ma vediamo che è trattato allo stesso modo degli oggetti, è come se ci trovassimo immersi quindi in una dimensione in cui spazio e tempo si compenetrano e a volte il riferimento può essere alle teorie di Einstein di quello stesso periodo sulla quarta dimensione che egli stesso aveva indagato e individuato. Un pochino sì, effettivamente per tutte le avanguardie, la tecnica e le scoperte innovative di quegli anni procedono di pari passo con l'arte. L'arte è molto attenta a captare queste novità, anche in maniera istintiva da parte degli artisti che hanno un po' sempre le antenne drizzate. E quindi in qualche modo anche i futuristi coglieranno tutte le novità, come abbiamo visto, insomma della macchina, della velocità e quindi effettivamente ha una risonanza, una consonanza scienza-arte. Nel cubismo sintetico poi Wangri, che è il principale protagonista di questo periodo perché continua poi a lungo con questa produzione, la forma ritorna a essere evidente, anzi Gris dice effettivamente che lui dal cilindro dipinge una bottiglia, quindi per lui è fondamentale la geometria che sta sotto, piuttosto che il riferimento al dato naturale. Vediamo che nelle sue opere, in questo periodo, vengono introdotti questi elementi dei papier collé, che avevamo indicato prima, del collage cubista, cioè queste carte, per esempio qui abbiamo delle etichette, abbiamo una carta da parati, abbiamo degli altri elementi di carta incollati e ritagliati e poi interventi pittorici che completano le immagini, le definiscono, la bottiglia però è vista di fronte, ma è vista anche dall'alto, quindi abbiamo l'imboccatura, diciamo così, il bicchiere che è visto dall'alto solo per un pezzo ed è completato con il pennello, poi è visto di profilo, abbiamo tutto lo sfondo invece che è trattato con la pittura ad olio. Visione simultanea quindi dall'alto e laterale e l'immagine è complessa ma riconoscibile. Per quanto riguarda Juan Gris, le immagini sono anche più colorate, c'è un cromatismo, una gradazione cromatica all'interno della sua opera. La bottiglia di Van Lius quindi è un gioco di trasparenze, dato da questa sovrapposizione di forme diverse che si incastrano tra loro, grazie anche alla tecnica scelta che è quella appunto del collage e dei vari elementi di tipo diverso che poi vengono completati attraverso la pittura. I diversi punti di vista attraverso cui sono osservati gli oggetti ci permettono di cogliere anche molto spesso i contorni in maniera netta che vengono completati appunto dall'artista. Quindi è come se ci fosse un tavolino visto dall'alto con tutti gli oggetti che vengono usati dal pittore, in un certo senso, quindi abbiamo la sua pipa, le etichette delle bottiglie di liquore, abbiamo i bicchieri, i giornali che vengono letti, è anche una dimensione molto banale se vogliamo dire, nel senso che non è una rappresentazione di un soggetto particolare, è una natura morta molto semplice senza nessun elemento straordinario, caratterizzante. E quindi è la dimensione del quotidiano in qualche modo. Vediamo un pochino di analizzare meglio Picasso perché lo incontriamo nel cubismo. Picasso non è solo cubista, è uno dei maggiori geni del Novecento, ha avuto una parabola artistica lunghissima, tanto quanto la sua vita e si è sempre continuamente rinnovato. Però se non lo affrontiamo con il cubismo non riusciamo più di inquadrarlo perché poi lui è così innovatore che cambia continuamente, quindi cerchiamo di percorrere un po' con lui tutto il suo periodo artistico. Allora nasce a Malaga ovviamente nel 1881, è più o meno coetaneo di Braque, che ha un anno in meno di lui, frequenta la scuola d'arte perché il padre che a sua volta è insegnante di arte, si accorge prestissimo del talento del figlio. Lo stesso Picasso dirà che fin da bambino lui dipingeva come Raffaello e che poi ha impiegato una vita per imparare a dipingere come un bambino. Studia quindi all'Accademia di Belle Arti ma si trasferisce molto presto a Parigi, dagli inizi del Novecento e sarà lì a Parigi chi conoscerà Braque, appunto al Salon d'Oton, e inizierà insieme quindi questo percorso all'interno del cubismo. Un altro viaggio fondamentale sarà quello in Italia nel 17, che vedrà un cambiamento nell'arte di Picasso, lo porterà un po' all'interno di quello stesso ritorno all'ordine che caratterizza tanta pittura del Novecento intorno agli anni Venti. Comunque lo stesso Picasso si indirizza verso una sorta di classicismo o neoclassicismo, con figure femminili, protagoniste delle opere, ma di dimensioni monumentali che occupano la tela. Si avvicina per un breve periodo anche ai surrealisti, poi negli anni Trenta c'è invece l'elaborazione del grandissimo, il suo secondo capolavoro che è quello di Guernica, che è l'opera scaturita dalla guerra città, civile spagnola. Periodo blu, 1901-1904, è il periodo della depressione di Picasso, diciamo così, è un periodo malinconico in cui Picasso rappresenta dei soggetti in tutte le gradazioni di blu. È un colore che suggerisce tristezza, suggerisce malinconia, suggerisce un sentimento depressivo in qualche modo, e che viene usato con questo intento. Le figure stesse sono quelle dei poveri, degli immarginati, delle persone sole, in difficoltà, dei mendicanti. Applica Picasso un allungamento alle figure, che hanno quindi proporzioni sottili, esili, e manca la profondità spaziale, o c'è molto poco, c'è di solito uno sfondo, anche a volte monocromatico, in qualche modo, che le isola. Picasso dirà poi della sua vita che fu il suicidio di un amico spagnolo, Casa Genas, a determinare in lui l'avvio di questo periodo blu. Però in realtà sappiamo che Picasso soffrì per un lungo periodo di depressione, di una forte depressione, e che quindi potrebbe essere la morte dell'amico a essersi inserita all'interno comunque di un quadro di tristezza generale dell'artista, di difficoltà psicologiche. Poveri ed immarginati, quindi sono i protagonisti dei suoi dipinti, quindi abbiamo visto nella pagina precedente, il protagonista era il pasto del cieco, quindi un cieco. In questa seconda opera sono dei poveri, dei mendicanti, ancora un vecchio cieco, insieme a un ragazzo, al figlio, qualcosa del genere, consumano un piccolo pasto, sono magri, allungati, il fondo è indistinto, dominano assolutamente i blu. Dirà poi anche un critico che nel periodo blu Picasso non era, non dipingeva soggetti di poveri perché lui in quel momento era povero, ma proprio perché dipingeva questi soggetti che la gente non comprava perché non apprezzava, faceva la fame, aveva difficoltà economiche, quindi sicuramente non era, erano soggetti che riflettevano il suo stato d'animo, ma non erano i più adatti ad essere venduti al grande pubblico. Poi inizia il periodo rosa, è un periodo migliore per Picasso, lui si innamora e i colori trasmettono una sensazione di maggiore gioia, di maggiore serenità. Ci sono di nuovo dei personaggi che in qualche modo si ricollegano al periodo precedente, perché ci sono ancora i mendicanti, ma compaiono anche i personaggi del circo, figure a volte abbastanza allungate, ma generalmente inserite all'interno di un contesto, dei colori bianchi, azzurri, rosa, quindi tutte queste tonalità calde, e compare di nuovo un pochino anche lo sfondo e lo spazio, le forme sono un po' più volumetriche, quindi c'è il chiaroscuro, c'è la sfumatura, che dà volumetria ai corpi. I colori però sono quasi pastello in un certo senso, sono molto delicati, questo ci dà l'impressione di un'atmosfera sospesa, delicata, sognante in qualche modo, vagamente malinconica, non nel senso depressivo, ma in quello di un'atmosfera sognante. 1904-1906, quindi il periodo rosa. Cubismo, quindi ricordiamo un attimo la parabola un po' velocemente, siamo nel cubismo analitico, anzi tra analitico e cubismo sintetico, in cui un'altra celebre opera di Picasso, che è la natura morta con sedia di paglia, o natura morta con sedia impagliata, comunque è sempre lo stesso il titolo, Picasso introduce nella sua opera il collage, il collage polimaterico, perché non c'è solo la carta, ma ci sono altri interventi, per esempio questa è una corda vera, che fa tutta la cornice dell'opera, qui abbiamo la tela cerata, che simula una sedia impagliata, anche qui gli oggetti sono raffigurati da diversi punti di vista e compaiono le scritte, in questo caso fatte a pennello, insomma direttamente con l'intervento dell'artista. Per la prima volta gli oggetti reali entrano in pittura, prima ancora del ready made, prima dei dadaisti o dei surrealisti, abbiamo la realtà concreta attraverso questi inserti, che entra direttamente nell'opera. Eccola qua la corda, e la tela cerata che avevamo nominato, quindi è come se tutto fosse disposto su una sedia e si fosse visto dall'alto, ma forse anche un po' lateralmente o forse di lato, è difficile decidere il nostro punto di vista. Gli oggetti sono anche di difficile decifrazione, in certi casi parte jour, che sta per journal, e quindi si dice che c'è un foglio di carta, un giornale, insomma sulla sedia, ma altri elementi appunto sono molto scomposti. Pablo Picasso è stato anche scultore, ma non in un senso tradizionale, perché ha realizzato degli assemblage, mettendo insieme parti di oggetti, fatte anche spesso di materiali diversi, che vengono poi a ricostruire un soggetto. Quindi non è la scultura fatta attraverso il modellaggio o il levare, come faceva Michelangelo nel marmo, ma attraverso un incollare insieme pezzi differenti, sagomati. Però anche qui vengono le regole del cubismo, perché abbiamo una chitarra che viene vista di fronte, ma abbiamo il lato posteriore che è più grande, la cassa armonica non è completamente delineata, mancano dei dettagli, è come se la vedessimo da dentro e da fuori, e anche dal retro contemporaneamente. Ci sono solo alcune corde, non tutte e sei, e quindi i vari elementi sono stati ricomposti. Quello che interessa a Picasso sembra anche essere la compenetrazione dello spazio con l'oggetto, questa chitarra spaccata, aperta, un vero spaccato e ricomposto, e quindi ci dà il senso della tridimensionalità, della terza dimensione che comprende anche lo spazio, non solo il volume. Ed ecco qui per esempio lo schemino, in cui vediamo tutti i vari pezzi e come sono anche piegati in qualche modo, come per esempio il cilindretto quello che è l'ingresso alla cassa armonica della chitarra. Siamo poi al momento del capolavoro degli anni 30, del 37 di Picasso, Ghirnica. 26 aprile del 37 un terribile bombardamento distrugge completamente la cittadina basca di Ghirnica, un bombardamento realizzato dalle forze nazifasciste, quindi italiani, fascisti italiani, nazisti tedeschi, insieme con le forze di Francisco Franco che sta cercando di prendere il potere. Poco tempo dopo in effetti il governo repubblicano cadrà, ma in questo periodo è proprio il governo repubblicano a commissionare a Picasso un'opera che deve rappresentare la Spagna alla grande esposizione universale di Parigi proprio di quell'anno. E quindi Picasso accetta. Sembra anche che abbia accettato e prima fosse un'altra la sua idea di soggetto che volesse rappresentare la morte di un torero. Sa di fatto che comunque il bombardamento della città di Ghirnica lo sconvolge, cambia sicuramente i piani. Ed ecco in queste immagini cosa restava di Ghirnica dopo il bombardamento. C'è un'immagine che ha deciso di non mostrarsi, ma non so perché. Si vede solo per un istante. E poi abbiamo l'altra sotto. Quindi effettivamente fu un disastro, fece anche grande notizia sui giornali dell'epoca, che ebbe grande risonanza. Ghirnica, che Picasso che non si trovava in Spagna, ma era sempre a Parigi, viene a conoscenza tramite i giornali di questo fatto. Ecco quindi l'opera di Picasso. È un'opera monumentale nelle sue dimensioni. È circa 4 metri per 8. La scena del bombardamento viene interpretata utilizzando alcuni degli aspetti tipici del linguaggio cubista. Quindi la visione simultanea, interno e esterno. Però noi abbiamo l'impressione di scendere quasi all'interno di un rifugio antiaereo e di vedere cosa è successo o cosa è rimasto dopo il passaggio dei bombardieri. Abbiamo alcuni elementi che ci dicono che si tratta di una immagine, di una scena drammatica, perché ci sono molte linee spezzate e acuminate, come quelle dei raggi di questa lampada che è ancora accesa, che sono appunto come degli aghi, come degli aculei. I corpi sono deformati, sono spezzati in certi casi, le lingue diventano lingue aguzze, ma vediamo anche gli edifici che ci sono fuori da questa stanza. Sembra un edificio in preda alle fiamme e al fuoco, forse anche una luce o un bagliore violento proveniente dal fuoco stesso. Ci sono poi vari gruppi all'interno di questa immagine. Un gruppo costituito dagli animali, ce ne sono tre quindi, il toro, il cavallo e molto buio sullo sfondo una colomba. Si vede la testa verso l'alto che urla e si identifica ben poco, però è presente quindi questo terzo animale. Il toro potrebbe rappresentare due cose diverse, si trovano varie attribuzioni, o questa brutalità, la distruzione che è stata attuata e quindi è un simbolo negativo, oppure sappiamo bene che il toro è il simbolo anche della Spagna e quindi potrebbe rappresentare la Spagna ferita, mentre il cavallo rappresenterebbe il popolo che ha subito questa oppressione e questa brutalità da parte delle forze fasciste. Il toro si trova poi sopra una donna che piange il figlio morto e questa immagine ci rimanda a tante raffigurazioni della pietà oppure della madre dolorosa, quindi un richiamo comunque l'arte classica, dalla quale nessuno, nemmeno Picasso, può prescindere, perché i grandi esempi della classicità, gli artisti per quanto siano diversivi, li tengono sempre a mente. Abbiamo visto con i futuristi la Nike di Samotraccia, vogliamo distruggere i musei, la macchina è più bella della Nike, però Boccioni riprende la Nike di Samotraccia. Poi abbiamo il cavallo e poi dicevamo le persone con i corpi ridotti a brandelle e qua c'è proprio il corpo di un uomo scomposto. Abbiamo la testa, le braccia, la mano aperta che sembra avere le linee della vita tutte distrutte, stagliuzzate in qualche modo, una spada, quindi forse stava combattendo, è spezzata, ma dalla mano chiusa sorge un fiore. Questo fiore è importante, vedremo dopo dove si trova. Per quanto riguarda in generale la composizione, vediamo che tutta l'opera è monocromatica, perché? Perché probabilmente la notizia che era stata presa dai giornali, quindi dal bianco e nero dei giornali a stampa dell'epoca, ha fatto fare questa scelta Picasso, infatti in alcuni punti si vedono anche questi trattini che un po' rimandano alle scritte dei giornali stessi. Lo spazio, anche in questo caso, sembra non ben definito, ci sono vari piani, un poco di compenetrazione, figura, sfondo c'è anche qui, ma abbiamo degli indicatori di spazialità, comunque queste linee diagonali, anche per la porta, che ci danno l'impressione appunto che sia uno spazio abitato, sia una scatola in qualche modo. In questo caso i volumi sono spaccati in senso cubista, anche vedete per esempio gli occhi, sono contemporaneamente visti tutti e due dallo stesso lato, oppure i corpi femminili, ci sono visioni simultanee degli stessi oggetti. Le figure però sono lacerate dalle bombe, o sono comunque, dimostrano insomma la dimensione della distruzione che è stata attuata. E quest'opera è diventata straordinariamente contemporanea nel momento storico che stiamo vivendo adesso. C'è una figura che entra anche in questo lato e sembra appunto portare, venire a vedere quello che è successo per cercare di rendersi conto e porta quindi una lampada accesa e arriva giù quasi gridando, già disperata, si vede solo la testa, il corpo resta indietro, il braccio la precede e ha i capelli quasi al vento, quindi un'altra figura femminile, l'altra donna che arriva con le braccia aperte piangendo, quindi in una dimostrazione esteriore del dolore, mentre in generale tutta questa scomposizione, tutti questi diversi interventi hanno lo scopo di rendere l'idea della brutalità della guerra, di quanto sia feroce, sia stato feroce questo attacco, ma in generale siano così tutte le guerre. Anche qui la composizione è attentamente studiata. Il fiore per esempio è il centro della composizione, si trova esattamente sull'asse di simmetria di tutto il dipinto ed è quindi un messaggio di speranza contenuto all'interno dell'opera. Dalla distruzione, dalla morte, spunta un fiore di pace oppure di rinascita in qualche modo. Vediamo poi altri elementi, per esempio questa specie di rombo è una visione che ci mostra l'esterno contemporaneamente, sembrano delle tegole di un tetto da fuori. Abbiamo la predominanza di linee diagonali, che danno un senso comunque di dinamismo. Molte linee convergono verso l'asse centrale e in particolar modo verso un altro punto di speranza e punto focalizzatore, che è questa lanterna. Quindi c'è una piramide o un triangolo, come possiamo dire, che si trova qui e che converge verso la lanterna. Abbiamo comunque un'altra divisione dello spazio, quindi oltre all'asse di simmetria, che divide a metà il pannello, abbiamo altri due assi. Uno si trova all'altezza di questa porta e un altro si trova all'altezza del toro e della bocca dell'uomo ucciso e quindi l'immagine viene attentamente spartita in zone e ogni zona ha i suoi punti di maggior importanza, quindi la donna che tiene in braccio il bambino morto, il cavallo che grida, la donna che entra e quella a braccia spalancate, l'urlo disumano di un'altra donna verso il cielo che si dispera. Ogni zona è attentamente studiata per quanto riguarda il punto di interesse. Picasso, quindi, dicevamo, ha voluto rappresentare l'orrore di tutte le guerre, quasi per dare la dimensione universale di questo sentimento e quindi quest'opera non poteva tornare in Spagna finché c'era la dominazione franchista. Lo stesso Picasso la donò per molto tempo al MoMA, cioè nel Museo of Modern Art di New York e rimase lì finché in Spagna non venne instaurato un regime democratico, quindi negli anni Ottanta. Solo allora poteva calcare il suolo madrileno e infatti adesso è conservata al Museo Reina Sofia di Madrid, dopo essere stata quindi a lungo New York. Picasso però dicevamo che nel 1917 incontra l'arte italiana e quindi abbiamo alcuni ritratti delle donne amate da Picasso. Questo è il ritratto di sua moglie Olga che viene rappresentata in poltrona dietro una figura volumetrica, tridimensionale, come viene reso proprio il volume delle braccia, tornite, rotonde. La poltrona invece dietro è più che altro un elemento decorativo dove Picasso si concentra nella raffigurazione di tutti questi fiori ed elementi vegetali. Questo periodo neoclassico dura diversi anni, fino al 25 circa e quindi in questo periodo realizza anche altri ritratti famosi come quello del figlioletto in veste di Arlecchino e spunto per l'opera ovviamente è anche la fotografia che come abbiamo visto anche con gli impressionisti è strumento per realizzare altre, per realizzare delle pitture che sono rielaborazione, non sono pedisseque, ecco, nel riutilizzare la fotografia. Però la posa è la stessa, con qualche piccola variante. Vediamo il volto molto dolce della moglie Olga che è reso con un ovale perfetto, le labbra sottili con quest'unico tocco di rosso e l'incarnato quasi dello stesso colore della tela che c'è dietro e in effetti l'opera non è terminata, quindi manca tutta la definizione dello sfondo. Però in questa epoca Picasso ritorna varie volte in varie opere al suo linguaggio cubista, quindi per esempio nei tre musici del 20-21, in cui ripresenta anche il tema degli Arlecchini che è molto caro a Picasso, anche quello dei musici Arlecchini ritorna con alcune varianti in diverse opere. E quindi abbiamo per esempio questi tre musici che sono vestiti in maschera e in costume, Arlecchino, Pulcinella, che stanno suonando insieme, sono all'interno di una scatola tridimensionale, non propriamente prospettica ma tridimensionale, ma sono come delle figurine ritagliate, realizzate con capiture piatte di colori molto brillanti, squillanti, anche per la presenza dei gialli, dei rossi vivi, degli azzurri intensi. Ma in questo periodo poi, il 1937, quindi è il periodo di Guernica, Picasso conosce altre donne, si innamora, per esempio abbiamo Marie-Thérèse, le rappresenta in una serie di celebri ritratti altrettanto famosi rispetto anche ad altre opere più note di Picasso. In questo periodo Picasso cerca anche di ritornare al disegno infantile per recuperare una sorta di libertà creativa, di naturalezza in qualche modo. Quindi abbiamo questo volto che è deformato in senso cubista perché lo vediamo contemporaneamente di profilo e di fronte, infatti abbiamo praticamente il naso, la bocca di profilo, ma abbiamo i due occhi sullo stesso lato e quindi è come se fosse contemporaneamente visto dalle due angolazioni. È un ritratto comunque molto espressivo ma con colori molto diversi da quelli del cubismo perché sono colori squillanti e molto accesi. E poi non sono le linee curve che non erano tipiche del cubismo, quindi Picasso non fa un ritorno al passato, riutilizza elementi del linguaggio cubista ma per rinnovare se stesso, per scegliere comunque altre strade. Abbiamo poi alcune curiosità, per esempio i capelli verdi che sono quindi antinaturalistici e il volto appunto che diventa quasi un doppio ritratto, questo grande cappello dei colori molto squillanti che è un gioco di linee, di linee curve però in questo caso. Anche le unghie vedete colorate con colori non naturali. La figura è poi inserita all'interno di una scatola prospettica, di una scatola tridimensionale e che ci ricorda quella degli Arlecchini, piuttosto sghemba che dà il senso della profondità, è una figura grandissima che sembra occupare tutto lo spazio, giganteggiare. Altre donne poi amate da Picasso sono state anche oltre a Olga e Marie-Thérèse, Dora Mar, della quale ha realizzato altri ritratti e non solo perché è stato un grande amatore anche Picasso, però le sue donne sono state anche le sue muse in qualche modo, quindi spesso le ha raffigurate. In sintesi l'arte è di un genere, non potendo parlare in modo esaustivo di un artista così poliedrico e anche con una carriera così lunga, ha voluto darvi alcuni spunti, quindi per esempio le sue sculture, che a volte sono state realizzate inserendo elementi reali, per esempio una sella, cammuffata, queste potrebbero essere delle certe zucche che sono, non so, le zucche violine che sono secche anche, questa è del 1950, però poi c'è lo stucco, c'è il gesso, ci sono interventi di altri materiali ed ecco ho fatto una capra. Anche questa è una capra accovacciata, è il disegno poi dipinto nella parte superiore del vaso che ci dà l'impressione della forma, con le sue zampette, con la testa e poi un ritratto realizzato con un unico segno. Ce ne sono altri celebri di Picasso, c'è la colomba, altri volti femminili, quindi è un tipo di disegno che ha amato sperimentare e nel quale è riuscito ad essere comunque molto espressivo, pur essendo pura e semplice linea senza chiaroscuro, senza nessun altro intervento. E poi Picasso riesce a dipingere anche con la luce. Questa è una fotografia in cui ha realizzato una delle sue figurette con un celino luminoso in una stanza buia e quindi ha disegnato senza bisogno della tela. Possiamo però concludere almeno con l'opera del nostro amico Braque. Vediamo appunto 1882, nato un anno dopo, di Picasso, morto dieci anni prima, nel 1963. Picasso muore novantenne, è figlio di un imbianchino, quindi non una professione elevata come il padre di Picasso, ma allo stesso si dedica alla pittura, nasce ad Argenteie che è un'altra terra di impressionisti dove avevano lavorato tantissimo e poi si trasferisce a Parigi, studia a Parigi e entra prima nel gruppo dei Faux e poi nel gruppo cubista, cioè nel gruppo, insomma, nella compagnia di Picasso e poi al quale si aggiunge Juan Grisolo più tardi. La loro collaborazione, dove abbiamo già detto, dura solo fino al 14, poi proseguono per strade autonome. Anche Braque saprà essere comunque molto innovativo nella sua carriera e portare anche elementi e contributi importanti nell'arte stessa di Picasso nel loro sodalizio, non è solo il Gregario, ci sono spunti creativi anche da parte di Braque. Ecco, questa è una delle prime opere cubiste o proto-cubiste di Braque, che è il Grande Nudo del 1908, in cui ci sono elementi cubisti dati, per esempio, dalla gamma cromatica basata sulle terre, dalla trattazione dei volumi sintetica, da questi interventi anche di zone in luce e zone in ombra, però dominano linee rotonde, dominano linee curve, dei contorni, nelle forme e quindi non c'è ancora la geometrizzazione per quei solidi di cubo parallelepipedo che poi è più caratterizzante. Un esempio di opera del periodo sintetico di Braque realizzata con i papiers collè, con la tecnica dei papiers collè, dove vediamo altri elementi, che avevamo già analizzati prima, quindi l'impressione della presenza di un tavolo, dato con queste carte incollate che simulano la superficie del legno, diventa quasi una sorta di trompe l'ail, in un certo senso, perché alcuni materiali incollati richiamano lo stesso oggetto che si vuole simulare, quindi voglio rendere il tavolo, prendo, incollo e metto lì questa superficie decorata con le venature, oppure il legno degli strumenti musicali che avevamo visto nelle altre parti, però poi ci sono sempre degli interventi pittorici che completano il tutto, poi ci sono delle etichette, anche in questo caso, quindi le scritte, la presenza delle scritte che siano dipinte o che siano incollate dall'artista stesso, i ritagli di giornale e quindi anche la presenza del quotidiano, non solo del giornale come quotidiano, ma di quello che è tipico della vita, insomma, di ogni giorno, in qualche modo. Ecco, ben c'è Donna con chitarra, è del cubismo analitico, dove la forma è difficilmente distinguibile, mancano indicatori spaziali, infatti dietro c'è uno sfondo indistinto, vediamo la profondità, il dipinto è monocromatico, anche in questo caso, educato sui toni del grigio, delle terre, dei neri, cerchiamo di trovare i punti della figura, quindi vediamo le braccia, sono nere, poi abbiamo la chitarra tenuta in mano dalla donna, i fianchi della della chitarra, diciamo con queste linee curve che sono resi contemporaneamente, il fianco, ma anche la parte frontale, noi vediamo le corde, vediamo la cassa armonica e vediamo i fianchi e poi le scritte, i ritagli di giornale che sono inseriti all'interno del dipinto insieme agli altri elementi. Il volto stesso viene scomposto, riconosciamo un occhio chiuso, uno semiaperto, la bocca, un po' la chioma, quindi la figura è scomposta e poi ricomposta in modo da non renderci chiaramente riconoscibile ogni sua parte. Ecco, con Braque abbiamo un po' chiuso il periodo del cubismo, è il grande cubismo in senso classico in qualche modo, poi ci sarà l'orfismo, il cubismo orfico, l'orfismo che teorizzerà tutto quello che i cubisti invece hanno fatto ma senza mai fare un manifesto e sarà anche un cubismo molto più scientifico che si darà delle regole, altri esponenti che non saranno più né Braque né Picasso, altri giovani artisti che vengono un po' dalla loro scuola e però questo linguaggio lascia importanti tracce nella pittura del Novecento, proprio anche questa idea che non si debba essere attenti riproduttori, insomma fedeli, riproduttori della natura e di quello che si è di fronte, ma che si debba astrarre dalla realtà e fare quindi un'arte nuova, un'arte slegata dalla dimensione reale in qualche modo. Ecco, io termino qui, vi lascio lo spazio alle domande se volete, a qualche intervento, qualche richiesta da parte vostra. Grazie. Grazie.